Domani sarà riconsegnata da città parte della sede storica del liceo classico Tommaso Gargallo. Si esibirà un quartetto d'archi dello stesso istituto e si terrà una piccola performance teatrale alla presenza del sindaco Francesco Italia e dell'assessore alla cultura Fabio Granata, entrambi ex studenti del Gargallo. Quest'edificio è parte fondante della storia della città fin dal 1650, quando nacque come sede dell'oratorio della Congregazione dei Filippini e sin dall'epoca della sua costruzione è stato adibito al luogo di istruzione. Qui ha avuto sede l'istituzione scolastica più antica di Siracusa, il liceo classico Tommaso Gargallo. Il ginnasio fu istituito subito dopo l'unità d'Italia nel 1861. Nel 1865 ottenne la sede in questo magnifico edificio di via Gargallo 19 nel cuore di Ortigia è l'intitolazione a Tommaso Gargallo, in segno letterato e uomo politico siracusano. Da allora il Gargallo è sempre stato un'istituzione che ha vivificato la cultura cittadina e non solo. Lo hanno vissuto come docenti e come alunni illustri personaggi della storia politica ed intellettuale, locale e nazionale. Questo è il luogo da dove partì l'idea della creazione di una rassegna di spettacoli classici che ancora oggi si tiene ogni anno e da più di cento anni al Teatro Greco. Dopo il trasferimento della scuola in un altro edificio all'inizio degli anni 2000 e dopo anni di finti recuperi abbiamo sottratto il Gargallo all'oblio e iniziato la sua rigenerazione. Domani lo riconsegniamo alla cittadinanza quale luogo dell'anima della cultura classica. Grazie. Grazie. Grazie.